Top e flop dei dati a Uitele di ieri, lunedì 28 ottobre. Nella serata vinta dal commissario Montalbano la replica della fiction di Rai 1 che ha raggiunto 4 milioni e 6 di gran lunga il programma più visto della serata, ieri al topo emettiamo il secondo programma più visto, ovvero Report che su Rai 3 è andato ben oltre 2 milioni di spettatori, quindi davvero un ottimo risultato per il programma di inchieste di Sigfrido Ranucci che negli anni non ha perso spettatori, anzi ha mantenuto lo zoccolo duro, a volte anche salendo nonostante l'addio di Milena Gabanelli, quindi davvero un ottimo risultato per Report su Rai 3. Flop invece per Canal 5 perché il programma live Nonella D'Urso con Barbara D'Urso di settimana in settimana perde spettatori, ieri è stata staccata da Report di quasi 150 mila spettatori, quindi è davvero un brutto risultato per la prima serata prodotta di Canal 5 che per noi va al flop. Vi ricordiamo che tutti i dati audito, gli ascolti e le curve le trovate sul sito tvzoo.it, noi ci vediamo domani. Grazie